Torna a crescere il tasso di positività al covid in Campania, seconda regione per nuovi contagi. Sale sopra il 10% giornaliero il rapporto positivi tamponi, record a Napoli nelle ultime 24 ore. In tutta la regione i positivi accertati sono 966 su 9509 tamponi processati con 16 morti. E preoccupa la variante inglese. In Campania un positivo su 4 è affetto dalla variante britannica, il 25% del totale. Lo studio di TGEM, istituto zooprofilattico di Portici, ospedale Cotugno, certifica la diffusione della mutazione del virus in tutte e cinque le province, come spiega il direttore dell'ospedale dei Colli, Maurizio Di Mauro. C'è una diffusione più o meno su tutte le province. Stiamo continuando a fare i sequenziamenti sui tamponi e quindi su questo poi aspettiamo i prossimi giorni per dare delle notizie più precise. Dobbiamo veramente rispettare le regole. Per il momento gli ospedali reggono. È chiaro un incremento del contagio potrebbe determinare sicuramente delle criticità. Questo non deve avvenire. Intanto l'unità di crisi invoca l'arrivo di maggiori scorte di vaccini per una campagna che comunque procede a rilento e i sindaci delle 14 maggiori città d'Italia, tra cui Luigi De Magistris, hanno incontrato il commissario Domenico Arcuri per chiedere un maggiore coinvolgimento nella campagna vaccinale.